Mistero nel Bresciano. Il cadavere decapitato di un uomo è stato rinvenuto nei boschi di nave, nella zona di Montecchi. La scoperta, agghiacciante, è stata fatta da una coppia di cacciatori durante la consueta battuta domenicale. Dopo aver avvistato il corpo, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. I carabinieri hanno messo in sicurezza l'area e avviato le indagini. Il corpo, in stato avanzato di decomposizione, non aveva documenti o oggetti personali, complicando l'identificazione. Chi è la vittima? Al momento resta un mistero. Le condizioni del cadavere lo rendono irriconoscibile. Gli inquirenti stanno cercando di confrontare il suo profilo con le persone scomparse negli ultimi mesi, sia in provincia di Brescia che in Lombardia. Da una prima analisi, si ipotizza che l'uomo sia morto da diversi mesi. La testa, staccata dal corpo, è ravvolta in un sacchetto e incastrata su un ramo spezzato. Le indagini proseguono sotto la direzione dei carabinieri. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.